Sensibilizzare sulla tutela del pianeta e dell'ambiente che ci circonda è una delle attività che i volontari dell'Associazione Plastic Free Valloridiano portano avanti sul territorio, coinvolgendo in particolare le scuole, quali contenitori di futuro e luoghi di formazione delle generazioni del domani. Dopo l'iniziativa posta in campo nelle scuole primarie di Sala Consilina, con il primo appuntamento svoltosi presso il Plesso di Fonti, i ragazzi dell'Associazione Locale presieduta da Angelo Trezza, con i responsabili Luigi Maria Gentile e Francesco Macri, hanno raggiunto l'Istituto Marco Tullio Cicerone, guidato dalla dirigente Antonella Vairo, con una giornata speciale di sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata e sulle alternative alla plastica meno dannose per il pianeta. I volontari che questa mattina, sabato 19 marzo, hanno svolto la lezione speciale ai ragazzi che frequentano le seconde classi degli indirizzi ITIS ed IPSIA, oltre a coinvolgerli nelle attività extradidattiche e laboratoriali, hanno anche evidenziato l'importanza di amare il pianeta, non inquinando, ed il valore della differenziata. Arrivare nelle scuole per Angelo Trezza, Luigi Maria Gentile e Francesco Macri è ritenuto di grande importanza. È necessario partire dai giovani per poter credere in una inversione di rotta sul tema legato alla tutela dell'ambiente. È necessario far comprendere quali sono i rischi, i pericoli a cui andiamo incontro, ma anche mostrare con quanta gioia e facilità ognuno possa fare la differenza nel suo piccolo. Viva soddisfazione per l'esito della giornata è stata espressa dalla dirigente scolastica, la dottoressa Antonella Valero. Grazie. Grazie. Grazie.